ciao ciao a tutti ciao e benvenuti in questo nuovo video e sul mio canale Cecilia Loli oggi volevo condividere con voi un messaggio che è stato dato da un grande personaggio della musica italiana che è Ezio Bosso che ci ha lasciato il 15 maggio e quindi per questo sono molto dispiaciuta io l'avevo conosciuto avevo conosciuto le sue canzoni non da molto tempo ma parlo di lui non perché parliamo di musica orchestre no ma perché ha lasciato un messaggio veramente bello che lo volevo condividere con voi sulla sul nostro argomento principale che è quello della felicità in un'intervista gli chiedono Ezio ma tu sei felice e lui dice non lo so non lo so se sono felice voi immaginate cioè se ve lo chiedono a voi se dovessero chiederlo a me ecco immagino in questo momento anche la mia risposta sarebbe non lo so anche se faccio dei video su youtube sulla felicità questo non significa che uno alla domanda sei felice gli venga dal cuore quindi sinceramente la risposta sì lo sono perché la felicità così nel senso cioè diciamo che lampeggia ci sono attimi di felicità occasioni di felicità momenti la felicità non è sempre no perché poi ci sono momenti in cui il tuo sangue ribolle dalla rabbia o dalla noia e questi sono comunque sentimenti che fanno parte della vita che non ne possiamo fare a meno non possiamo sicuramente cancellarli da un momento a un altro ma il discorso che fa Ezio sulla felicità mi è piaciuto tantissimo e volevo condividerlo con voi. Ezio sei felice non lo so dice in questo momento non lo so ma tengo stretti i momenti di felicità li tengo stretti e li vivo fino in fondo fino a farmi venire le lacrime cioè è questo è veramente secondo me una cosa grandiosa grandiosa cioè giusto se te sei felice uno te ne devi rendere conto due cioè devi proprio essere in quel momento lo devi proprio vivere in modo che entri dentro di te e faccia parte di te in modo che come dice lui poi lui poi continua dicendo io ho una filosofia tengo più ai momenti felici rispetto a quelli non felici in modo che mi servano da appiglio la chiamo proprio maniglia per alzarsi dal letto in quei giorni proprio no in quelle giornate no ed è come se ci avesse regalato un messaggio un suo punto di vista che può essere anche un esercizio molto bello da fare e oltre ad essere un consiglio è anche una possibile strada che possiamo percorrere tutti quello di aggrapparsi ai momenti felici farli propri propri per poi quando siamo giù capitano momenti in cui siamo giù vero? o successo? non penso in quei momenti in cui siamo giù abbiamo qualcosa sul quale aggrapparsi e tirarci su bei ricordi momenti vissuti pienamente ovviamente col cuore non distratti voi il video lo trovate facilmente su internet perché gira e Ezio Bosso discorso sulla felicità questo avutiamo lo ringraziamo per questo bel messaggio e lo facciamo nostro come un altro punto di vista da poter rendere e portare nelle nostre vite noi grazie a questo canale amplifichiamo le possibilità per essere felici è come dire apriamo cento porte e così anche se non saremo proprio sempre felici tutto il giorno o non saremo proprio felici sempre in tutta la nostra vita avremo e daremo modo a più porte dare più entrate alla felicità e quindi di farci venire a trovare più spesso dalla nostra amica felicità io vi saluto ti auguro un giorno felice ciao